Mentre andavamo a casa sua, io vedo dietro dallo specchietto del pickup, vedo tipo una camionetta in borghese con le luci blu, ma classica proprio da cosa in borghese, no? Cioè non è le luci sopra sirena, proprio quelle che metti davanti sul cruscotto, no? E mi passa, e lì per lì sul momento ho detto questa camionetta qua mi si mette davanti, tira fuori la paletta, mi ferma, ma ci sta perché alle 21.40 uno su un pickup con dietro un TM stargato e tutto, cioè ci sta che ti faccia due domande e lo fermi per chiedergli dove sta andando. E in quel momento lì io, zio, ho avuto una palla della madonna, infatti eravamo al telefono e ti ho detto, zio sto avendo un attacco, c'avevo il cuore che batteva fortissimo, perché se mi avesse fermato, pure avendo il diritto di muovermi, di spostarmi, sarei andato in para per spiegargli cosa facciamo? Cioè non avrei saputo spiegargli bene. Spero sincero, per tagliare la testa al toro, prenderei il telefono, andrei su YouTube e gli direi, questo è il mio canale. Il problema è che finché c'è il restauro, va bene, ma se esce il video in cui ho mappato la macchina, oppure in cui insegno a gente a impennare, cioè che cazzo c'è veramente? È quella vinculata, capito? Vabbè, ma te, zio, cos'è che c'hai di... No, vabbè, lascia stare adesso, non è che ho cose da nascondere che faccio di sbagliato così, però devi anche trovarti come quel poliziotto sgamato, che sa che cos'è il mondo dei social, che sa che è un lavoro, e che con questa cosa non intende Chiara Ferragni è un lavoro, perché Chiara Ferragni è la migliore, tutti gli altri non sapevo manco che lavorassero, capito? Perché secondo me molti fanno questo ragionamento qua, che dicono, è vero, sui social si guadagna, per esempio la Chiara Ferragni, ma se ti prendi sui social si guadagna, per esempio, Edoardo, io non ho dedicato, Edoardo, io non ho dedicato, nessuno rispettava a Ferragni, capito? Boh, io dico... Per cui dice, ok, vedremo quando mi fermeranno Mamma mia, zio, che brutta cosa Vabbè, minchia, non è che se io so che sono in giro per lavorare, mi fa la multa, faccio ricorso, che cazzo devo fare? Sì, sono d'accordo Chiaro che se mi fermo mentre sto impennando con un babbo di minchia dietro